Radio Radicale, siamo con il direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso Cerno, per parlare del voto in Abruzzo. Allora, bisognerebbe fare un discorso su come un certo tipo di stampa ha presentato questo voto e anche i numeri delle singole liste. Allora, secondo lei come è andata, si aspettava questo risultato e come ha trovato per esempio il comportamento di alcuni quotidiani che forse vedendo dei sondaggi riservati sapevano quali erano le tendenze del voto? Sì, noi non abbiamo mai creduto all'effetto Sardegna per due ragioni. La prima, i pochi voti e la situazione cagliaritana che riguarda il rapporto tra un sindaco e la sua città. La seconda perché abbiamo scoperto e capito in questi anni e ce l'hanno insegnato due partiti in particolare, la Lega nel nord e i Cinque Stelle nei loro momenti di exploit che c'è una distanza culturale nel cittadino tra il voto locale dove il cittadino si assume la responsabilità delle cose vicine a lui che conosce meglio di Roma e il voto politico. I Cinque Stelle sono stati dati per morti tutte le volte tranne a Parma e a Roma e a Torino in quel momento emblematico che sono andati alle elezioni regionali o comunali e poi invece erano più che vivi a quelle politiche. Quindi cominciamo a non confondere i piani. L'effetto psicologico che la sinistra ha cercato di dare a queste elezioni è comprensibile nello stato di disperazione in cui versa ma del tutto antitetico alla strada che dovrebbe prendere. La sinistra oggi dovrebbe cancellare la parola fascista dal suo dizionario, costruire un pensiero, costruire una visione del mondo e proporre quello ai cittadini. Si sono attaccati alla todde sperando che l'Italia spingesse gli abruzzesi a cambiare idea. Invece il risultato di Marsini è un risultato molto forte perché con la pressione che ha avuto negli ultimi giorni quel episodio regionale e locale trasformandosi addirittura, Repubblica scrive, nell'Ohio d'Italia che se fosse così significa che Trump stravincerà le elezioni in America beh insomma un risultato così netto è semplicemente la conferma da parte dei cittadini abruzzesi che quel governo gli è piaciuto. L'explore di Forza Italia è molto interessante perché Forza Italia che lavoro evidentemente fa? Forte di 30 anni di costruzione di un partito nell'anno in cui Berlusconi non c'è più non fa una propaganda nazionale, non fa il visitor che arriva a spiegare il mondo ai cittadini sul territorio ma rimette insieme i mondi civici che in questi ultimi anni avevano lasciato Berlusconi. Berlusconi lascia un patrimonio potenziale enorme che si è ridotto nel tempo ma che lascia pezzi di storia che evidentemente Forza Italia sotto la guida di Antonio Tajani è riuscita a recuperare in un progetto politico e il risultato qual è? Quello di una testimonianza di chi votava Berlusconi e oggi si fida di nuovo di Forza Italia per questa ragione. Quindi elezioni locali dal grande significato politico ma assolutamente strane al tema del governo. Ha fatto una riflessione sulla mucchiata? La mucchiata sì, ho fatto una riflessione, è la parola giusta, nel senso che il centrosinistra è ancora incastrato in una questione sostanziale. Il partito democratico nasce nel 2007 sull'idea che esisteva un campo democratico all'americana capace di tenere dentro di sé tutte le contraddizioni e le differenze dialettiche che a sinistra ci sono per portarle a un progetto comune. Dall'altra parte, le uniche volte che ha vinto le elezioni nella sua storia il progetto era opposto, la sommatoria di partiti ma guidati da un leader condiviso che era Romano Prodi. In questo momento non esiste nessuna delle due cose. Il partito democratico si è radicalizzato intorno al suo segretario e per la prima volta non è il segretario che avevano scelto i vertici ma quello che hanno scelto le primarie. C'è una corrente del segretario Ombra, il presidente Bonaccini, che invece avevano scelto i vertici che compete con lei in una dimensione molto partitica. Ci sono alleati possibili ma non c'è un leader comune perché Conte vuole essere lui, Glein vuole essere lei, Renzi vorrebbe essere lui. Quindi siamo nella situazione più lontana dal tema ulivo dal punto di vista del sentimento. Non li aiutano le guerre che stanno mostrando le divisioni profonde che ci sono a sinistra sul tema della politica estera che improvvisamente invade il campo italiano dopo tanti anni e crea grosse questioni all'interno del centro-sinistra. Vuole dire qualcosa sulle prossime scelte che si faranno per le elezioni regionali? Allora in Sardegna dove il centro-destra ha cambiato il candidato è andata così. In Abruzzo si è fatta una scelta che poi ha premiato tutto il centro-destra, bisogna riconfermare tutti gli altri, Bardi, Basilicata, insomma cambiare il cavallo in corsa è sbagliato? Allora tendenzialmente cambiare il cavallo in corsa mostra l'idea che hai cambiato l'idea sul tuo governo. Può capitare però nel percorso di una coalizione che una scelta fatta anni prima non corrisponda più al sentimento attuale. Quello che il centro-destra non deve fare è dare l'impressione che c'è una spartizione a Roma dei posti sul territorio, piuttosto chieda ai cittadini dei luoghi chi preferiscono, non attraverso le primarie che non sono uno strumento consono al centro-destra e che hanno perso il loro autentico significato, ma magari consultando molto i vertici locali. Tajani oggi ha nominato nella direzione nazionale di Forza Italia il segretario regionale dell'Abruzzo, riconoscendogli il ruolo nazionale che quel tipo di lavoro può portare a Forza Italia. Ecco questo tipo di ragionamento può portare anche a delle scelte diverse da quelle che tutti aspetti, ma devono essere fatte in un contesto che sale dal basso e non che scende dall'alto. È l'effetto visitor che spaventa il cittadino. L'ultima cosa, noi abbiamo subito due settimane di gran cassa mediatica dopo il voto in Sardegna. Adesso come ripiegheranno i giornali affiliati al centro-sinistra, la stampa e Repubblica? Abbiamo visto che hanno fatto una propaganda abbastanza poco realistica per chi conosce veramente i meccanismi della politica e leggeva i sondaggi nei giorni scorsi. Allora, adesso cosa diranno? Beh, io questo tema lo sento molto mio perché mi accusano a me di dire cose diverse, mentre io continuo a dire le stesse cose. Io vedo una sinistra che in due settimane è passata da Anna Frank a Hezbollah. Non è così che si costruisce il campo alternativo al centro-destra di Giorgia Meloni. Quello che dovrebbero fare è costruire una sinistra della contemporaneità. Quello che faranno è cercare di dire che i loro avversari sono cattivi, sono imbroglioni, sono fascisti, sono razzisti, sono manganellisti. Sciocchezze per due ragioni. Se i manganelli in Sardegna avessero avuto un peso, oggi praticamente avremo una sinistra, come dire, devastata dalla voglia di manganello dell'Abruzzo, cosa che non esiste, lo sappiamo benissimo, e se l'effetto Sardegna fosse un effetto nazionale, il voto in Abruzzo dimostrerebbe che la Meloni sta per travolgere il centro-sinistra in maniera definitiva. Consiglio a Elie Schlein di fare Elie Schlein. È stata Elie Schlein fino al giorno prima delle primarie, dal giorno dopo è stata un po' quello che già avevamo visto nel Partito Democratico. Addirittura gira con Bersani, persona intelligentissima, capace, divertente, ma che viene dal paleo PD. Le sue elezioni erano nel 2013, sono passati 11 anni. Non è un bel modo di dire che siamo cambiati. Chiaro. Grazie al direttore del Tempo, Tommaso Cerno. Grazie a te.